Custodire e proseguire, compito e missione della Chiesa. Così Papa Francesco intervenendo alla commemorazione organizzata dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione del 25esimo anniversario della Fidei Depositum con la quale si promulgava il Catechismo della Chiesa Cattolica. La parola di Dio ha sottolineato il Pontificio una realtà dinamica e viva, non la si può legare ad una lettura rigida e immutabile senza omigliare l'azione dello Spirito Santo. In tale prospettiva va sottolineata anche la mutata consapevolezza del popolo cristiano nei confronti della pena di morte, estremo e disumano rimedio, al quale si è fatto ricorso pure nello Stato Pontificio a causa di una mentalità più legalistica che cristiana. Non c'è contraddizione con il passato, ha affermato il Papa, perché la difesa della vita dall'inizio alla fine naturale ha trovato una voce coerente e naturale proprio nella Chiesa. Si deve affermare con forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale. È in sé stessa contraria al Vangelo, perché viene deciso volontariamente di sopprimere una vita umana che è sempre sacra agli occhi del Creatore e di cui Dio solo, in ultima analisi, è vero giudice e garante.